Buonasera e benvenuti, voglio ovviamente per prima cosa ringraziare le istituzioni presenti in questo tavolo, in particolare il sindaco Giuseppia, il Comune di Milano, Torsala, Società Expo, sono qui per questo lancio e soprattutto li ringrazio per aver colto l'istanza di questo nostro progetto che presenteremo questa sera e che accompagnerà Expo 2015. Si sono dette tante cose su Expo 2015, al di là dei disagi, delle difficili gestazioni, sarà un'occasione storica per Milano, un'opportunità economica impressionante per questo Paese e noi vogliamo che sia anche con questo progetto, vogliamo riconoscerne le potenzialità culturali e scientifiche. Nel 2015 ho sentito il primo dottor Sala che mi ha detto che si attendono 24 milioni di biglietti, quindi milioni di visitatori, milioni di persone che useranno, visiteranno la nostra città e noi vogliamo che sia anche un momento per riflettere sul futuro della nostra società, sul futuro del nostro pianeta, sulle sue risorse, sulle sue diverse forme economiche, sulle diverse forme di convivenza in un contesto pacifico che deve crescere l'insegna dello sviluppo e dell'integrazione. Quando con il professor Veca ci siamo per la prima volta posti il problema di che contributo la Fondazione Fratelli potesse dare e come connotare dal punto di vista della comunità scientifica Expo 2015 ci siamo mossi su due direttrici. La prima era quella di individuare dei percorsi di ricerca che potessero portare a un confronto davvero importante di esperienze diverse, non settoriale ma un confronto funzionale a un lascito che in qualche modo, secondo anche l'indicazione di quello che ha detto Bisabria prima, di un lascito che noi vorremmo dare alla città, agli amministratori, con delle proposte che vorremmo venissero fuori da questi laboratori. La seconda direttrice era quella di cercare di attrarre le eccellenze scientifiche e quindi di far venire a Milano i migliori esperti nei diversi campi, non senza un'intenzione anche di tipo divulgativo, perché siamo convinti che approcci accademici anche importanti devono poi tradursi, devono trovare una traduzione in percorsi di crescita e di consapevolezza per la cittadinanza. Per questo gli obiettivi dei nostri laboratori sono essenzialmente due, da un lato attrarre su Milano le università, i centri di ricerca più importanti al mondo e con le università milanesi, con la giovane ricerca, con i borsisti che metteremo in campo, cercare di arrivare a una sintesi delle migliori ricerche sulla sostenibilità ambientale e sulla sostenibilità etica e dall'altra di inaugurare un percorso in qualche modo più di tipo divulgativo con manifestazioni, incontri e appuntamenti che possano tenere informati i visitatori di Expo sui contenuti di Expo 2015. Per fare tutto questo abbiamo individuato appunto dei percorsi di ricerca che indagheranno tematiche legate al cibo e alla filiera alimentare, ma anche secondo la tradizione della Fondazione Feltrinelli daranno spazio a studi e confronti sul tema della sostenibilità etica e alla necessità di costruire società equi e solidari in senso molto, diciamo così, largo. Non vi nascondo che questo importante impegno che ci siamo presi costituisce anche un banco di prova molto importante per la nostra Fondazione, in quanto come sapete, come molti di voi sanno, nel 2015, quindi nella stagione di Expo, ci trasfereremo portavolta in questo grande progetto di Herzl Temuron con un edificio per la nuova Fondazione Feltrinelli che vorrà e vuole a tutti i costi diventare un punto di riferimento scientifico e culturale nuovo per la città e dare smalto ancora di più a Milano. Voglio per chiudere e iniziare davvero Salvatore Veca per gli anni di militanza e per questo sforzo compiuto in questi mesi, tutti i professori dei diversi progetti, il Comitato Scientifico del Comune per Expo 2015, i collaboratori di Expo 2015, i collaboratori della Fondazione Feltrinelli e Michael Sandel che ha accettato di inaugurare questa stagione dei laboratori con una sua lecture. Grazie mille.